I laboratori sono il cuore dell'Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico Marconi di Campobasso, laboratori che sono stati aperti al pubblico ai futuri studenti della scuola e ai genitori per far loro capire come sono organizzati, cosa si fa al loro interno, chimica, meccanica, elettronica, informatica e tanto altro in una scuola in cui la teoria è supportata dalla pratica. Il laboratorio è il luogo in cui si coniuga la creatività con l'operatività. L'idea progettuale con la realizzazione pratica. I laboratori del Marconi e i loro alunni e insegnanti si sono distinti per creazioni notevoli apprezzate a livello nazionale come il robot che suona, ma non solo, interessante il laboratorio in cui è stata creata una scena del crimine, un nucleo investigativo con i rilievi del caso, alunni in camice bianco alle prese con soluzioni chimiche o che hanno spiegato esperimenti di fisica o rappresentazioni grafiche attraverso strumentazioni tecnologiche, altre alle prese con microcontrollori e microprocessori per eseguire funzioni collegandosi a uno smartphone. Abbiamo un ricevente bluetooth che è praticamente un'antenna che riesco a interfacciarmi con il bluetooth del telefono e a comandare questa semplice lampadina. Adesso con lo smartphone apro una semplice applicazione che la possiamo trovare semplicemente nel play store e mi interfaccio con questa ricevente. Adesso premendo per alcuni millesimi di secondo su questi pulsanti virtuali vedo che posso accendere o meno spendere la lampadina. L'istituto tecnico Marconi ha detto Adelaide Villa, dirigente scolastico, offre ottimi sbocchi lavorativi. La richiesta di tecnici specializzati è sempre più presente, sempre più impellente. Sono moltissime le aziende che cercano dei ragazzi che hanno le specializzazioni che dà questa scuola. I tassi di occupabilità e di occupazione effettiva che abbiamo riscontrato in questi ultimi anni sono stati veramente entusiasmanti, molto sulle aziende del nostro territorio, dalla Fiat di Termoli anche ad aziende più vicine, cioè che insistono sul territorio di Campobasso. Per cui avere un'occupazione dei nostri studenti che va di sopra del 30% è una cosa molto interessante.